Muoversi. Infomobilità in Campania. Oggi, in occasione dell'incontro di calcio, Salernitana Perugia in programma alle 15 allo Stadio Arechi di Salerno, dalle 12.30 alle 19 sospeso il servizio della metropolitana tra le stazioni Arbostella ed Arechi, con contemporanea chiusura della stazione Arechi. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza. Servizio a cure di Acamir e Regione Campania.